Il cinema indipendente in Italia spesso non riceve il sostegno che dovrebbe ricevere, perché chiaramente dentro la difficoltà comunque, per cui, se volete scriverne male, scrivetene male, ma ricordatevi che è un film indipendente, quindi anche solo per questo dovrebbe avere un pauso solo per il fatto di essere riuscito a desistere, perché è facile sparare magari su qualcosa che non è piaciuto o demolire una cosa dentro la quale invece c'è l'impegno, il lavoro, la fatica, l'amore, a volte anche di riuscire a fare con i mezzi che uno ha invece un prodotto dignitoso, quindi solo questo, grazie.